Ben tornati amici di Bet Italia Web, l'altro giorno con Morfeo abbiamo parlato di Premier League con una puntata molto discorsiva nel dettaglio oggi facciamo una pillolina un po' più veloce però la mia redazione mi ha preparato una preview, un'anteprima anche sulla Liga che non poteva mancare questo weekend torna al campionato di calcio spagnolo, ci sono alcune novità, c'è l'incombenza del Covid, c'è stato il tormentone Messi comunque adesso ne parliamo, andremo a vedere le statistiche più importanti, le quote antepost, le quote sulla prima giornata e vi daremo in anteprima una free pick di D'Artagnan dal suo studio che poi vedremo domani Allora, lo scorso anno ha vinto Real Madrid, lo saprete, davanti alle solite Barcellone atletico, retrocesse Legam, Mallorca ed Espagnol prendono il loro posto le neopromosse Uesca, Tadice ed Else volevo partire però appunto facendo un passo indietro 2019-2020, andiamo a vedere un po' le statistiche, i dettagli più interessanti a livello scommesse per esempio, lo scorso anno quello spagnolo è stato un campionato in cui si sono registrati quasi il 46% di vittorie delle squadre di casa un numero abbastanza in media con gli altri campionati quello spagnolo come vedete è stato anche un campionato da under, uscito quasi nel 55% delle partite disputate mentre è stato molto più in equilibrio il rendimento gol-gol-no-gol con una leggerissima predominanza del gol-no ha uscito nel 50,26% delle partite comunque un'inerzia sempre parlando dello scorso anno, la miglior squadra come rendimento nelle scommesse non è stato il Real Madrid che ha vinto ma è stato il Levante con un 50% di resa di poco avanti al Granada al 49% voi direte cosa stai dicendo è il rendimento in base alle quote all'avversario che ovviamente cambia il Real Madrid spesso ha vinto di più del Levante chiaramente ma spesso anche con quote microscopiche a 1,20 mentre il Levante ha avuto quote medie ben più alte quindi ogni vittoria a livello di resa nel betting si è fatta sentire dicevo 50% di resa con il Levante cosa vuol dire? vuol dire che se per esempio ogni turno avessimo puntato 10€ sulla vittoria del Levante contro chiunque ogni giornata in base ai successi e alle relative quote come vi dicevo prima avremmo investito in tutto 380€ 10€ a giornata, 38 giornate e avremmo chiuso con un profitto di più 191€ quindi siamo intorno al 50% che non è male per farvi un paragone il Real Madrid ha chiuso in profitto in questa statistica ma solo di un 3% il Barcellona addirittura ha chiuso in negativo meno 8% per non parlare dell'Atletico Madrid che ha registrato un meno 25% anche se in generale la peggior squadra in assoluto qui è stata rispettata anche la classifica reale dei punti è stato l'Espagnol che avrebbe fatto perdere quasi 211€ su 380 investiti vi dico però che l'Espagnol è stata anche la miglior squadra da X con una resa del 46% in questo caso davanti al Barcellona mentre le squadre di Madrid sono state le peggiori in assoluto nei pareggi Real meno 55% Atletico meno 65% i soldi li ha fatti anche chi ha giocato contro il Celta Vigo con una resa del 56% e qui è il ragionamento inverso rispetto a quello delle vittorie se ogni turno avessimo puntato 10€ sulla sconfitta del Celta contro chiunque avremmo chiuso con più 213€ sul conto a fine stagione per niente male appunto 56% di resa al secondo posto in questa classifica negativa risultati alla mano c'è l'Atletico Madrid più 162,8€ per chi ha puntato contro i Colcio Nero su ogni giornata ovviamente queste sono solo indicazioni che ci danno un termine di paragone nessuno dice di giocare no brain ogni turno sulla vittoria sulla sconfitta o sul pareggio di una squadra contro chiunque in qualsiasi situazione per tutto l'anno però sono una cartina tornasole per farci capire un po' come hanno lavorato le squadre ma anche come hanno lavorato i bookmakers sulle quote va bene veniamo all'attualità le quote antepost che quest'anno favoriscono il Real Madrid per un altro titolo a 1,65€ è staccato il Barcellona a 2,50€ Barcellona che ha vissuto settimane di passione vera con Messi che sembrava intenzionato a lasciare la Catalunia alla fine questo pericolo è rientrato però ci sono altre uscite importanti in dirittura d'arrivo ne abbiamo parlato anche in chiave di calcio mercato italiano penso a Vidal che interessa l'Inter Suarez che sembrerebbe interessato alla Juve sembra quasi un anno zero per il Barcellona quindi grande vantaggio del Real Madrid più staccato invece l'Atletico Madrid che sale in doppia cifra 10 di quota mi aspettavo anche qualcosina di più a dire è vero che il Barcellona come detto potrebbe avere una stagione un po' più difficile e poi abbiamo i campioni dell'Europa League il Siviglia 28 che comunque il Siviglia la Liga non la vince mai vincerà l'Europa Liga anche quest'anno in un qualche modo e poi si va in tripla cifra col Villareal a 150 il Real Sociedad a 200 eccetera eccetera vediamo ora la prima giornata al Vial 12 con Eibar, Celta, Vigo chissà se perderà subito la prima al Celta rimembrando i dati che abbiamo dato prima solo 7 partite perché Barca e Real non giocheranno quindi in tutto appunto 7 sfide Eibar, Celta, Granada, Athletic, Bilbao e Cadiz, Osasuna il 12 mentre domenica 13 Alaves, Betis, Valladolid, Real Sociedad Villareal, Huesca e Valencia, Levante su Villareal, Huesca abbiamo un'idea una free pick che vi anticipiamo col nostro D'Artagnan che poi ritroveremo nella puntata di domani del nostro Bet Italia Web Daily Show intorno alla pausa pranzo col suo consueto studio del weekend con le pick sui maggiori campionati di calcio in Europa ci saranno le pick della Ligue 1 che torna della Premier League che inizia della Liga che stiamo trattando anche adesso e forse metteremo dentro anche qualcosina di R divisi olandese visto che Bundesliga e Serie A sono ancora ferme e andiamola quindi a vedere questa free pick che anticipiamo su Villareal, Huesca andiamo con la vittoria del Villareal a 1.61 Stake 1 dopo un anno Huesca torna nella massima serie ci dice D'Artagnan ha tenuto i giocatori chiave della passata stagione con cui si è preso la promozione in Liga 2 e si è rinforzata anche con qualche colpo interessante però ovviamente il Villareal oltre a giocare in casa parte anche con un vantaggio tecnico importante abbastanza netto rispetto al roster dello Huesca e tra l'altro il sottomarino giallo nel mercato si è mosso molto bene con alcuni arrivi interessanti come Pareio e Coquelin andiamo quindi sulla vittoria del Villareal uno fisso però non azzardiamo investimenti più alti del solito andiamo con lo Standard Stake e non azzardiamo nemmeno degli handicap c'era balenata l'idea però siamo sempre alla prima di campionato che è sempre un rebus e le sorprese sono dietro ogni angolo tra l'altro la quota non è altissima 1.61 però è una delle migliori quote di mercato su Marathon prima vedevamo le quote su SNAI per esempio sta a 1.55 quindi valutate anche bene dove andare a prendere questa quota ve la diamo tra l'altro in anticipo perché potrebbe andare ulteriormente a scendere ok siamo già arrivati alla fine di questa pillolina un po' più veloce come detto noi ci ritroviamo domani con lo studio di D'Artagnan continuate a seguirci anche sul nostro sito e ovviamente nei nostri canali Telegram come sempre trovate tutti i link i riferimenti e le info qui sotto nei commenti io vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona giornata fate buone scommesse puntate sempre con la testa ciao